Blue Farm è orgogliosa di presentare Vladimiro, che non è lui, ma lui, il nostro cerottino nasale. Usalo in caso di congestioni, allergie o di naso chiuso. La sua letta allarga delicatamente le narici, così tu respiri meglio e giochi meglio. Visto? Provala anche tu! Vladimiro, il cerotto del buon respiro.